Ora per saperne di più di Salernitana Crotone, immediatamente linea Lollobrigi da Facco a Bordocampo, Pisinica e Di Gennario, linea Salerno. Il conto è già chiuso, la celebrità la vuole così, vincere per portarsi a più 9 dalla seconda. Il Crotone proverà a sbarrarne la strada, a prendersi 3 punti per diventare, dovendo recuperare la partita con la Lucchese, la seconda forza del campionato. Insomma, vuole tenermi aperto il conto, guerra e settore poi, un grande girone di ritorno. Buonasera, benvenuti dalla Regi, un saluto alla Marta dell'Otrigida e Mario Facco. Buonasera, buon lavoro, un saluto anche a loro, il collega Bordocampo, per la Salernitana. Vario di Gennaro, per il Crotone, Luca Pisinica, buonasera. Buonasera anche da parte mia, qui da Bordocampo, io seguirò in particolare la Salernitana. In questo momento i cuori, gli urli della curva Granata, oltre 15.000 i presenti questa sera per questa grande partita di cartello. Buonasera anche dalla panchina del Crotone, con un paio di curiosità legate alla squadra calabrese, innanzitutto nel settore ospite. Buonato perché non è arrivato nessun tifoso dalla Calabria, non è stato venduto nessun biglietto a Crotone. Questo è particolarmente strano, perché visto anche la squadra sta andando piuttosto bene in campionato. Fa una curiosità legata invece al presidente del Crotone, si parla tra di Raffaele Brinna, che da oltre 15 anni, c'è da fare il presidente del Crotone, guarda tutte le partite dalla panchina e farà così anche quest'oggi. Bene, buona partita allora anche per il presidente. Brinna, mi saluta Dario Barone dalla Regia, siamo lui tutto lo staff tecnico che vi regalerà le emozioni di questo. Bell'otticipo, ci sono un paio di novità rispetto alle informazioni che avete dato da studio, novità a tratto del luce a un minuto praticamente, che ha avuto anche qualche problema per avere quella della Salernitana, fatto un po' di protattica, diciamo così a Costinelli. Non ha fatto protattica invece, molto disponibile. di Rodale Indiani che andiamo a sentire al microfono di Luca Pizzinicca. Grazie a tutti. Tra un po' mi raggiungerà Granatiello, la mascotte. Senti, a questo cos'è il nuovo acquisto? Vai, vai. Ci sono purtroppo dei problemi con il collegamento a Salerno. Non si sentiva Pisinica che stava intervistando indiani. Ce ne scusiamo. Allora...